Noi abbiamo eletto con una larga maggioranza, quindi l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale penso abbia fatto un buon lavoro riscontrando anche il parere positivo delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle a favore, del centro-sinistra in una fase di astensione ma non contraria alla scelta che veniva fatta, il garante per le persone che in questo momento hanno privata la propria libertà personale, il garante dei detenuti. Noi vogliamo che chi ha sbagliato le confronti dello Stato sconti la propria pena fino all'ultimo giorno e saldi il proprio debito con lo Stato. Questo però non vuol dire che debba avvenire in condizioni non umane, senza l'ipotesi di attuare fino in fondo i principi costituzionali che prevedono la volontà del recupero della persona che ha sbagliato. Le voglio aggiungere che presto avremo anche il garante per l'infanzia, che visto altra autorità di cui la regione era sprovvisto, che visto i fatti che stiamo leggendo su Bibiano crediamo essere stata un'altra buona accelerazione, buona cosa che il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha prodotto.